Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Dopo tanto tempo che non stavo facendo più Kingdom Hearts Ho deciso di riprenderlo Cioè ho deciso di riprenderlo perché lo voglio mandare avanti E siamo giusto in tempo a fare qualcosa Non mi ricordo che cosa dovevamo fare Ragazzi siamo qui nella landa dei dragoni Se sentite che parla ad alta voce Perché voglio farmi sentire dal microfono Se no non mi si sente la voce E se non ricordo male dobbiamo andare a fermare Shang Yu Per la prima volta, per ora Poi ci sarà una seconda Non so perché ci sono queste interferenze con il video Aia, aia, e basta Maremma, cane Non vedo l'ora di cambiare i Keyblade Perché questo Sì è buono però Smette tanto Io vorrei prendere il video Vabbè Vabbè Lo prenderemo Forse più in là Ora se vedo Allora Ragazzi se sentite l'audio un po' Allora E' un po' Sei molto pronto Ma finnalo Oh Presa Adesso è la del risveglio Abbiamo più questo Ragazzi Aspettate Aspettate un attimo E quindi non siano attaccati bene Dovremmo esserci Ok Dovrei aver risolto la cosa Non lo so Ragazzi Non ho stoppato il video Allora Usiamo subito quella P2 Ok E andiamo a vedere se ci sono delle abilità da attivare Autoselezione magica No Combo più è Combo più mi servirebbe Eh no Ci sono ancora queste interferenze Ragazzi Stoppa un attimo il video E ritorno Ok ragazzi Spero di aver risolto la cosa Perché ho staccato e riattaccato il video Della roba 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 Ancora dei nuovi oggetti Nell'inventario Ah la scherzo C'era anche Pensavo Chissà cosa Pensavo Ok Direi di andare avanti Sono ancora un po' raffreddato Però ora mi sento a mezzo Tutti altri Io ho smesso di registrare Per un po' per rimettermi Attacca! Scusate ragazzi, ho voluto provare una cosa Ok, la composizione e il gruppo è cambiata Sono usciti tutti dal gruppo Ping, Filippo e Paperino Quindi siamo da sole e dobbiamo trovarci la Ok Ragazzi, non contate le 151 ore Di gioco perché lo lasciavo acceso Per tante ore la play Infatti finivo il gioco con 300 ore passate Invece di me era vero Ok Allora, bisogna uccidere più Earthless possibile E' bello se ci perde anche Non fare nulla ragazzi Eh vabbè, questo aiuto a rendere il cavolo Che cosa è successo, però va bene Dai E' baffa il cucchia E' baffa il cuore È go Grazie a tutti. 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 The punishment for high treason and dishonoring the army is death. Get out of my sight. Now. You're all dismissed. But, Captain... My debtor is repaid. The emperor is waiting. Thank you. Thank you, everyone. I'm sorry. I'm sorry. I got you in trouble. It's no big deal. So, Pin... So, Pin... I mean, uh... Mulan... What are you gonna do now? Go back home. You know... You know, your daddy's gonna be steamed as a chicken dumpling. You know... You know... Okay. Okay. Ping ha... Di nuovo... Ha imparato una nuova abilità. Okay. Okay. Ora... Mulan può fare le cose strafiglie. Infatti. Ci sono alcune abilità che... Ora... Vabbè. Ci sarà il limite. Sì. Ok. Vi spiegherà. Ci ha fregato come... Come si... Infatti. Ci sono alcune abilità che... Possiamo parlare con certi personaggi. Di nuovo. È un giro. Ero... È un giro. Mi viene qui conoscere... C'è un giro. Ero... Ero... Mi viene sceglie... Ci sono i più. Lo sembrano di... Ci sono i più. Ci sono i più. Ero... C'è un giro. Ci sono i più. Ma i guai ritornano ragazzi Come nel cartone animato Che ognù riemerge come un mumbo Ok Allora stavo controllando una nuova ragazzi Scusatemi se sono stato due secondi in tito E bello che tra poco Dovrei chiudere il video perché dovrei arrivare in posto Allora non so quanto minuto possa essere arrivato il video Però io direi per ora di finirlo qui E poi perché siccome devo andare via Devo andare a fare un'altra ultima commissione Poi ci sono Cioè ci sono a fare il video Questa è la prima parte dell'episode 9 Dovremmo essere al 9 Se non fai quant'ora devo andare su internet Quindi ragazzi mi raccomando Ci vediamo nella prossima parte Mi raccomando se il video vi è piaciuto commentate Al prossimo appuntamento Al prossimo appuntamento Ciao ciao Ciao